I'm a Fireball La categoria di oggi è Miglior TG Il primo nominato è TG2 Questa la motivazione Risulta essere il telegiornale Rai Più imparziale nella cronaca politica Da evidenziare gli apprezzabili servizi finali Durante l'edizione serale Davvero servizio pubblico Che danno spazio a storie e fatti più in ombra Rispetto ad altri di caratura maggiormente nazionale A svolgere un importante ruolo Nel fornire un'informazione completa Sono le diverse rubriche correlate a questa testata Il secondo nominato è Sky TG24 Ecco la motivazione Completezza del servizio e copertura continua di qualsiasi evento Sia esso di minore importanza o lontano nel mondo Si può inoltre distinguere per la freschezza dell'impaginazione Ed immediatezza delle immagini Anche in alta definizione Il terzo ed ultimo nominato è TGNorba24 Motivazione Un telegiornale sempre sul pezzo E collocabile sullo stesso livello Degli alt news più popolari Che viene fatto con un impegno finanziario Non esagerato Nomina meritata per l'impegno di chi lo realizza Con grande senso del dovere E grande dedizione Ed ora ricapitoliamo velocemente i tre nominati di questa categoria TG2 Sky TG24 TGNorba24 Adesso tocca a voi come sempre amici di BubinoBlog Scegliere uno di questi tre candidati Da inserire come vostro favorito All'interno dello spazio commenti Del post in cui state guardando il video Le votazioni termineranno il 24 luglio E mi raccomando ricordatevi che è valido un solo voto per ciascun utente Appuntamento alla prossima categoria Ciao a tutti